Una maxi evasione fiscale sul commercio di carburanti importati dalla Spagna da una società di capitali con base a Malta. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Partenopea, terza sezione criminalità economica ed informatica, eseguito tra le province di Napoli, Salerno e Reggio Calabria, un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche perigualente di beni del valore di oltre 18 milioni di euro nei confronti di quattro società e relativi amministratori operanti nel settore del commercio e della distribuzione di carburanti. Sotto sequestro, conti correnti, denaro contante, preziosi gioielli, autovetture immobili pari all'IVA e vasa sulle fatture false contabilizzate e dichiarate al fisco nei confronti dei rappresentanti legali di molteplici società indagati per frode fiscale. Il meccanismo fraudolento ricostruito dai finanziari del nucleo operativo metropolitano di Napoli consisteva nell'importare il prodotto energetico via mare dalla Spagna da una società di capitali maltese con basi decisionali a Napoli e Catania e stoccarlo in sospensione di imposta nei pressi di un deposito costiero napoletano. Da qui il carburante veniva ceduto solo cartolarmente e quindi senza versare accise di IVA e ad un altro deposito fiscale situato in Calabria e fatto risultare venduto a società cartiere prive di deposito di qualunque struttura organizzativa che acquistavano solo sulla carta il prodotto in senzione d'IVA per poi cederlo con le emissioni di fatture false a depositi commerciali campani. Questi ultimi erano di fatto gli unici utilizzatori del carburante di contrabbando che non si era mai mosso da Napoli. Grazie. Grazie.